Abbiamo avuto una gente folle, è vero, e su questo io sono pronto a fare l'autocritica. Io mi assumo tutte le mie responsabilità dei ritardi nell'innovazione del partito. E chiedo scusa, ma dico innanzitutto io, ora basta. Vinciamo le elezioni, vada avanti chi merita e chi serve alla comunità e non chi è più fedele all'amico più potente all'interno del partito. E su questo dico ai militanti, ai simpatizzanti, ai giovani, alle ragazze e ai ragazzi, anche ai giovani democratici, ai quali chiedo di fare un passo in avanti e trovare le ragioni dell'unità per dare all'Italia un'organizzazione giovanile, ma dico a tutti non aspettate segnali dopo il 22. Dateli segnali, sfondate le porte dei circoli chiusi da troppo tempo, se lo ritenete giusto. Fondate una nuova base giovane e popolare del PD che serva all'Italia. Lo statuto lo permette, serve alla democrazia. Abbiamo davanti giornate di fuoco, durissime, ma in direzione il gruppo dirigente ha dato all'Italia un grandissimo esempio. Abbiamo avuto una bellissima discussione sul referendum, tra di noi, dove hanno convissuto idee diverse, ma finalmente nel rispetto reciproco. Volevano che ci sbranassimo, che corresse tra noi il sangue. No, siamo diversi, siamo plurali, ma ci rispettiamo e siamo solidali. Abbiamo scelto a maggioranza il sì, ma sia chiaro, è un sì per combattere, per accompagnare le riforme su una proposta che è nel nostro DNA. Io odio l'antipolitica, ma non accetto che se qualcuno sostiene con quegli argomenti una mia stessa proposta, debba essere io a fare il passo indietro. No, io combatto per cambiare, per iniziare un processo di riforma, che abbiamo deciso a agosto e abbiamo la legislatura davanti per realizzarla. perché quell'avvio di riforme può cambiare in meglio l'Italia.